Ciao ragazzi, questo è un video abbastanza improvvisato perché volevo farvi anche qui sul canale un aggiornamento degli ultimi libri che sono arrivati nella mia libreria sono tutti se non sbaglio libri che mi sono stati inviati e libri che ho acquistato io cioè nel senso li ho messi insieme perché visto che non sono tantissimi ho deciso che è meglio fare un video unico allora parto col farvi vedere i libri che mi sono stati inviati e il primo su instagram ve l'ho fatto vedere al 100% qui sul canale non ricordo ma non penso si tratta dei racconti del diario vittoriano di Laura Costantini che fa parte appunto della saga del diario vittoriano, bellissima è una serie che io ho adorato assolutamente questo appunto è l'ultimo libro uscito e sono dei racconti che vanno letti dopo aver letto tutta la serie se magari non sapete qual è l'ordine corretto della serie potete scrivermi qui giù nei commenti e io vi lascio l'elenco appunto dei libri che compongono questa serie quante volte ho detto serie questo non c'è il prezzo scritto qui se no ve lo dicevo e sono circa 255 pagine non l'ho ancora letto ma penso che sarà proprio la mia prossima lettura poi mi è arrivato un libro a sorpresa perché è arrivato praticamente a casa dei miei infatti non avevo la più palida idea di chi avesse ancora l'indirizzo dei miei e non l'indirizzo nuovo e quando l'ho aperto ho scoperto che mi era stato inviato dall'Oscar Vault ed è Gideon la nona di Tamsin Muir non so come si legge comunque Gideon la nona penso che lo conosciate tutti perché ormai ne hanno parlato tutti io l'ho già letto e l'ho adorato follemente ne parleremo poi ovviamente nel wrap up questa non è ovviamente l'edizione originale come posso dire vabbè non mi vengono le parole oggi vabbè comunque lo sapete tutti all'Arc praticamente che la casa editrice invia ai blogger tutte queste cose vabbè ci siamo capiti solo io e io comunque sono questo è formato da 452 pagine e io vi dico una cosa gli ho dato 4 stelline su Goodreads però sono giorni che ci sto pensando se dargliene 5 perché mi è rimasto talmente impresso che ho qualche dubbio ancora sulla valutazione da dargli però vabbè ne riparleremo poi nel wrap up vi dico solo che sono stata contentissima e non vedo l'ora di leggere il prossimo volume poi un'altra sorpresa che mi è stata fatta sempre dall'Oscar Vault e non me l'aspettavo assolutamente è stata La vita invisibile di Addie Larue di Addie Larue anzi dovrebbe dirsi perché dovrebbe essere francese della Suab di cui io non avevo letto assolutamente nulla quindi questo è stato il primo libro che ho letto dell'autrice non me l'aspettavo minimamente di ricevere questo libro vi dico già da adesso però che io l'ho abbandonato non mi ammazzate perché so che questo libro sta pieno da tantissime persone ma io sono arrivata qui e l'ho abbandonato perché non mi prende non lo so all'inizio mentre ho iniziato a leggere lui continuava a pensare continuava a pensare sempre a Ghidea alla Nona e forse non riusciva neanche tanto a concentrarmi su questo perché Ghidea mi è rimasto talmente impresso che non lo so non riuscivo a leggere poi comunque mi ci sono messa mi ci sono abbastanza immersa però mi ha bloccato anche un po' adesso devo assolutamente riprendere a leggere perché questo libro mi ha anche creato una non voglia di leggere speriamo di riuscire a superarla subito comunque questo sono questa è sempre l'edizione ARC sono 486 pagine ne parleremo ovviamente sempre nel drop up poi un altro libro che mi è stato inviato a sorpresa che non mi aspettavo minimamente dalla De Agostini è Vitamina di Beauty di Giulia Sinisi allora io sinceramente non sapevo neanche chi era Giulia Sinisi probabilmente io penso che me l'hanno inviato perché comunque sul mio profilo parlo anche di beauty solo che io utilizzo soltanto prodotti biologici non mi interessa seguire altre persone insomma se non alcune che conosco abbastanza bene e ho scoperto insomma girando su internet che Giulia Sinisi è una una delle più famose beauty blogger insomma è stata un'allieva di Mr. Daniel Makeup comunque il libro è tipo diviso in due parti nella prima parte c'è una parte dedicata appunto al beauty nella seconda parte una parte dedicata insomma al make up e tra le due parti ovviamente a me interessa la prima perché io non mi trucco e quindi insomma penso che leggerò comunque la prima parte perché quella mi interessa questo comunque viene 17,90 euro e sono 269 pagine all'interno comunque ci sono delle foto molto belle adesso se me ne esce una ve le faccio vedere tipo questa ma ce ne sono tante poi comunque se sono andata anche a cercare su Instagram il suo profilo per capire insomma chi era poi questi sono appunto i libri che mi sono stati inviati poi ci sono quelli che ho acquistato io allora io volevo assolutamente questa che è l'agenda dei lettori Feltrinelli 2021 mi era ingrippata perché comunque costava poco veniva solo 4,90 euro ma tra l'altro l'ho presa quando era scontata sul libraccio questi li ho presi sul libraccio questi libri e l'ho pagata meno di 4,90 adesso non ricordo bene comunque è molto carina innanzitutto perché è in copertina rigida e dentro ci sono diciamo che molte cose interessanti che mi faranno acquistare sicuramente altri libri già ho visto e poi ci sono anche cose che mi interessano cioè non so come spiegarvi tipo una giornata c'è scritto che quella giornata quell'autore ha scritto quel libro quindi io avendo magari quel libro spero che quel giorno io riuscirò a leggere quel libro a iniziare almeno a leggere quel libro spero che abbiate capito cosa volevo dire comunque per comprare questa bisognava acquistare un libro della Feltrinelli o Gribaudo o Marsilio mi pare non ricordo io ho preso un libro della Gribaudo perché lo volevo assolutamente adesso se ne va anche la voce ed è il libro del goloso mangiarsano questo non c'entra niente con i libri di narrativa è un libro appunto che parla di alimentazione più che altro qui ci sono qui c'è scritto ricette trucchi e segreti per organizzare i menù vegetariani per tutta la settimana questo appunto è edito Gribaudo è una bellissima edizione il prezzo è di 16,90 euro dentro ci sono anche ricette con le immagini e a me è piaciuto tantissimo l'ho letto tutto in una mattinata ci sono praticamente ma di queste magari ve ne parlo nel wrap up però vabbè questo è un libro così no praticamente qui vi dice come io non mi sono preparata ve lo dico vi dice vi dà dei consigli su come organizzare il menù settimanale ci sono delle liste e voi potete fare le vostre liste e poi ci sono anche delle ricette ovviamente come suggerimenti ma magari ve ne parlerò meglio su Instagram quando vi metterò la foto poi ho preso un altro libro sempre dell'ambito in questo ambito che si chiama vegan per tutti uno stile di vita sana e sostenibile in quattro settimane questo è edizioni LSWR non so come si dice e costa 14,90 euro ma io l'ho pagato pochissimo non ricordo se perché era usato o perché era nell'outlet adesso non ricordo ma l'avrò pagato su 4 euro più o meno allora diciamo che questo sarebbe un libro perfetto per chi proprio all'inizio perché qui ti dà tutte le motivazioni ti spiego un sacco di cose cose che comunque io già sapevo tutte perché avevo letto anni fa The China Study e questo invece penso che sia perfetto perché proprio all'inizio io più che altro sono andata a vedermi la parte delle ricette perché è quella che appunto mi interessa di più in questo libro e ho trovato comunque cose interessanti che farò sicuramente e poi l'ultimo libro che ho preso è dedicato a succhi e frullati questo è sempre della Gribaudo infatti edizione mi piace tantissimo perché anche qui ci sono tutte le foto dentro all'interno e ci sono appunto un sacco di succhi smoothie con frutta con verdura molto interessanti io adoro fare succhi e frullati ho già altri libri di questo genere che avevo acquistato tempo fa e volevo un altro libro perché questi libri mi piacciono tantissimo e niente quindi questi sono i libri che ho acquistato io da Librazzo quelli di prima erano quelli che mi sono stati inviati era un video appunto breve così giusto per aggiornarvi e spero che ci vedremo presto con il wrap up di ottobre ma vorrei fare anche un videotag non lo so se riesco adesso vediamo un po' ci vediamo presto ciao